29 maggio 1931, l'anarchico Michele Schirru viene fucilato per aver organizzato un piano per uccidere Mussolini. Michele Schirru venne in Italia per attentare a Mussolini, ma a un certo punto si arrese di fronte all'impossibilità di farlo. Stava per ripartire per l'America, fu catturato dalla polizia di Bocchini in piazza Venezia, fu portato al tribunale speciale e condannato. Attentare a Mussolini è attentare all'umanità, quindi questo tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, silenzio, condanna, Schirru Michele, nato a Padri, a Sassari, il 19 ottobre 1899, a morte assassini!